buona domenica a tutti allora il palermo ormai è in c è stato respinto tutto al palermo e hanno messo già in vendita i biglietti verona pescara per i playoff già in vendita di cui palermo non ha nessuna speranza e dispiace molto perché sinceramente il palermo merita la serie a non c'entra niente con l'altra società questa società si trova tutto addosso l'altra società quello che ha combinato potevano penalizzarla di 10 15 punti rimanere in serie b a metà classifica ma no buttata proprio in c e dispiace molto per i palermitani dispiace molto cioè signor me voi meritate la serie a con tutti i doveri che avete fatto in campo ve la sede meritata dispiace molto per il foggia buttato ricorso poi il punto niente da fare società foggia sanella va al tar l'ultima spiaggia il tar di cui entro lunedì martedì si dovrebbe sapere il tar cosa deciderà se attivare il play out o ridacci il punto che automaticamente si farebbe il play out è tutto la la situazione o ridacci tutte sei punti perché se il tar ci dirà ci da tutte sei punti tu sei salvo però automaticamente per il play out se la farà il venezia con la serenità questo è stato fatto tutto questo giochino per bloccare i play out per fare in modo che la serenità si salvava allora l'ultima dichiarazione che ha fatto lo tito ha dichiarato che lui è strano a tutta questa faccenda c'è lui non c'entra niente di questo che è stato fatto ma ma mi capi una cosa ma ci sei prendendo per il culo lo tito ma ci sei prendendo per il culo non c'è non ci prende per il culo perché noi non siamo scemi hai fatto tutto questo meccanismo per salvare la tua salernità punto non ci prende per il culo ma adesso c'è il tar sperando che ci ridanno tutte sei punti o un punto o attivare il play out che così il foggia automaticamente deve fare la partita con la salernità ma noi la sedana c'è lo tito c'ha paura perché sa che il foggia vince con la salernità di cui c'è tutto da vedere alla fine facciamo un bilancio noi abbiamo i punti l'abbiamo perso nel campo perché ci dobbiamo attaccare al punto o giocare in play out ma qualsiasi squadra che si trova in quella situazione tu non puoi bloccare i play out perché è giusto si sono sempre fatti però ritornando a noi noi i punti l'abbiamo perso sul campo colpa dei giocatori che l'abbiamo perso ma perché non abbiamo avuto una società che ha alzato la voce i giocatori da quando hanno cominciato a essere mercenari perché loro sono stati mercenari 19 anni per andare in serie b il secondo anno che tu ci rimani in serie b con il secondo anni in corso tu in due anni hai buttato un'intera città dentro l'immondizia la coppa di chi è società direttore sportivo perché direttore sportivo è solo un cesso è nu cesso esse è tutta la rasta sui è nu cesso sono i chiave però non lo mandava via perché lui è un cesso come direttore sportivo è un cesso è stato lui l'attefice di tutto questo compresa la società che si è affidato di lui ma l'altra cosa da quando non hanno avuto i stipendi i giocatori che non avevano soldi hanno cominciato a sabotare il foggia e abbiamo perso un casino di partite e punti persi ma tanti punti perché tu adesso non stavi in questa situazione non stavi proprio tu stavi in serie b tranquillamente i problemi se li vedevano gli altri invece no loro da quando non hanno avuto i soldi i primi soldi hanno cominciato a a sabotare il foggia hanno cominciato a diventare mercenari e quelli sono mercenari in due anni hanno buttato un'intera città nell'immondizio e noi non meritiamo questo i tifosi del foggia non meritano questo un pubblico così non merita un pubblico abbonamenti trasferti soldi non merita questo un caloroso sempre vicino alla squadra sempre fuori e dentro in modo che il foggia e come giocavi in casa anche fuori non l'hanno mai avuto e questi mercenari cosa hanno fatto in due anni ci hanno buttato dentro l'immondizio questi sono questi giocatori la società ancora adesso sta cominciando a parlare ma durante l'anno il campionato è stata assente di cui la società se tu il tar dovrebbe fare un miracolo ti fatti rimanere in serie b tu devi essere chiaro c'è l'hai i soldi per rimanere in serie b c'hai i soldi per comprare i giocatori non per fartela avere in presto perché tutti i giocatori ce n'hai poche che se sei tu di proprietà il resto sono tutti delle altre squadre e abbiamo visto grazie al direttore sportivo ha preso dei mercenari togliendo due o tre elementi due elementi più che altro il portiere le ali e bilò gli altri sono tutti da buttare nell'immondizio tutti tutti ognuno possa c'ha la sua preferenza io c'ho io vedo i miei le ali e bilò e base il resto tutto nell'immondizio tutti a calcio tutti qua tutti quanti tutti quanti compresa anche il direttore sportivi da manezza perché non c'è questo non c'è per un cazzo questo è un mercenario per questo compresa gli altri giocatori si è tagliato si è diminuito sono tutte stronzate che si è letto ma non si è diminuito un cazzo avete capito si devono far vedere le prove non parlare di cui questi sono solo mercenari compresi direttore sportivi la società l'unica colpa che non è stata assente è stata assente non ha parlato non si è fatto vedere non si è non alzato la voce è l'unica cosa che ti do alla società si è fidato di queste persone mercenari giocatori e direttore sportivi mercenari fare si che cazzo ha fatto fare si assente anche lui scelte sbagliate compresi il direttore sportivo è uno schifo una città indiera buttato nell'immondizio dopo di tutto quello che hanno fatti i tifosi sempre vicino c'è non solo che tu hai acquistato tanti i tifosi che si sono smarriti il secondo anno di serie b hai fatto uno schifo totale tu società non è alzato la voce non si è stato chiaro con tutto il pubblico foggiano con tutti i tifosi se tu ti salvi io spero che il foggia si salva ci vuole una preghiera ci vuole un miracolo ci vuole alleluia alleluia questo dobbiamo cantare il prossimo anno nello stadio alleluia questi i miracoli ci vogliono ci vogliono il miracolo se tu ti salvi società ma i soldi per rimanere in serie b per i giocatori per comprare giocatori e tutto il resto ce l'hai i soldi perché se non ce l'hai i soldi tu società dimettiti hai fatto già assai per quello che hai fatto foggia ti ringraziamo dimettetevi fratelli sanella sanella dimettetevi vi dovete dimettere avete fatto avete fatto assai per foggia ma mo la state buttando di cui dimettete se non avete i soldi nel mondo del calcio come dice l'otito ognuno si cura i suoi interessi i soldi i soldi come la canzone di quella che è arrivata a secondo posto all'eurovision a secondo posto soldi 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 ci vogliono soldi soldi voi ce l'avete i soldi se non ce l'avete i soldi lasciate la società lasciatela date in mano al comune al sindaco che la gestisce lui trovando dei imprenditori che vogliono portare i foggi in serie a che avete detto voi noi dobbiamo portare i foggi in serie a la bocca si dice tutto ma i fatti vogliono le cose alla mano e voi questo non l'avete fatto mo siete uscite ancora adesso per il ricorso al tar dove stavate nella vostra casetta rimanevate se hanno deciso così così ma già da metà di campionato dove alzare la voce con i giocatori che hanno perso i punti in campo i punti l'hanno perso in campo loro hanno perso i punti in campo partiti che tu dovevi vincere cacci a grassatoni prendi padalino di nuovo grassatoni tu non hai soldi per comprare niente per prendere un altro allenatore che ti doveva salvare come delle rose non hai soldi di cui non si è stato chiaro per il prossimo anno cerchi di essere chiaro se hai questi come dice la canzone soldi soldi ce l'hai soldi ce l'hai soldi ce l'hai soldi ce l'hai soldi hai capito comunque buona domenica a tutti e speriamo che dal tar abbiamo delle belle notizie arrivederci e sembra forza foccia ci vogliono i soldi i soldi i soldi